E dunque sconfitta per l'Inter in questo test francese, in quel di Lons, un KO che chiaramente non inficia alcunché, un ottimo allenamento con tanti spunti interessanti, primo tempo con una squadra che ha messo in campo un po' quelli che sono i titolarissimi, che gioco forza e in maniera fisiologica erano comunque ancora lontani dalla miglior condizione e si è visto soprattutto a livello di ritmo, di attività, meglio nel secondo tempo con tra virgolette le seconde linee che comunque hanno creato molto di più, sono entrati soprattutto Lukaku e Lautaro, gol sbagliato in particolare del Toro argentino, ma si vede un'affinità di coppia dentro e fuori dal campo. Un'Inter quindi positiva che subisce il gol al novantesimo, un gollonzo, come direbbe la gelapas band, ma ripetiamo che poco importa, poco importa il risultato, ripetiamo, un buon allenamento e adesso ci sarà da recuperare chiaramente qualche titolare, soprattutto Gosens, soprattutto Skriniar, al di là del mercato, è un elemento imprescindibile nonostante le buone prestazioni in quel ruolo, soprattutto di Matteo D'Armiang. Un saluto!